Quindi il tempo misurato dal laboratorio è uguale, guardate la in alto a sinistra, a gamma volte il tempo misurato dall'orologio in movimento. Gamma si chiama il fattore di Lorenz ed ha l'espressione 1 diviso la radice quadrata di 1 meno la velocità del treno al quadrato diviso c quadro. Quindi la velocità del treno diviso c la indico con la lettera beta, quindi beta rappresenta la velocità espressa in unità di velocità della luce. Quando beta vale 1 state andando alla velocità della luce, quando beta vale 0 state fermi, quando beta vale 0,5 state andando a metà della velocità della luce, quindi beta che è uguale a v su c è la velocità del treno misurato in unità di velocità della luce. Beta è adimensionale, no? Gamma è adimensionale, perché è un tempo uguale a gamma per tempo, quindi quel gamma deve essere adimensionale, no? Eccetera eccetera eccetera. Allora guardate questa funzione gamma, il vostro collega ha gentilmente calcolato alcuni valori numerici e fate un grafico nella variabile della scissa mettete beta che va da 0 a 1 e poi fate il grafico di gamma e guardate com'è. Quindi quando siete all'1% della velocità della luce, quindi questa tacca è il 10%, quindi questo è 1 per 1000, addirittura non riuscirei nemmeno a disegnarlo, quindi quando beta vale 0 quanto vale gamma? Questo è quello che gli ho chiesto di calcolare, ma lo vedete voi. Quando beta è uguale a 0 quanto vale gamma? 1. Quindi questo è 1, ok? Quindi vedete che all'aumentare la velocità del treno gamma cambia molto lentamente inizialmente. Quindi quando siete a un millesimo velocità della luce, quindi guarda che la velocità della luce è tanto eh, sono 3 per 10, tanto per gli esseri umani, che siamo grandi più o meno un metro per il metro e mezzo, sono alto un metro e ottanta, per ora sono largo meno di un metro, più o meno un metro è la dimensione dell'essere umano. Quindi sono 3 per 10 alla 8 metri al secondo, quindi 1 per 1000, e 3 per 10 alla 5 metri al secondo, quindi se tolgo altri tre zeri per avere chilometri, sono 30 km al secondo, giusto? È molto veloce. Ok? Però a 1 per 1000 velocità della luce gamma, vedete che è quasi 1, per accorgervi che non è 1, dovete andare alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, la settima cifra dopo la virgola. Ok? Quando vi portate a 1 per 100 velocità della luce, vi accorgete che gamma non è 1 quando andate alla quinta cifra dopo la virgola. A 5% gamma è 1 per 1000 diverso da 1. Quindi anche a 10% qui, che sono qua, se io metto la tasse, questo è 1 e questo è 2, questo è 3 e questo è 4, questo è 2, anche al 10% io non riuscirei a risolverlo, cioè nel disegno io non riesco ad apprezzare alcun cambiamento, cioè non riesco a renderlo nel disegno, non ho la risoluzione grafica per darvi una parte su 1000 di questo valore qua, no? Quando arrivo al 10% sono a 5 parti più 1000, quando è che comincio, questo è un 1, però lei ha una carigrafia un po' particolare, quindi quando sono al 50%, ecco che gamma è 1,2 che riesco a riprodurre, quindi il 50% è qua, questo è 0,5, quindi è circa, questo è 1, questo è 2 e sarà circa qua, quindi questa funzione sta lentamente salendo a 90%, sono a 2,3, quindi la 2 è qua, la 3 è qua, 2,5 è questa, sarà circa qua, quindi voi dovete immaginare che questa funzione sta iniziando a fare così, a 99% la velocità della luce, che non è più o meno graficabile, perché questo è 99, 99 forse qua, si riesco un po', e cos'è? A 7, 3, 4, 5, 6, 7, 99% sarà qua, quindi sta andando su sempre più rapidamente, eccetera, quando sono a meno di 1, no? 0,999, cioè 99,9% della velocità della luce, sono a 24, che non è neanche lì, e quando sono, ecco, poi gli ho chiesto di calcolarmi l'opposto, cioè qual è il valore di beta per avere un gamma di 1000, allora siccome gamma è quella roba là, gamma quadro è questo, quindi ho semplicemente manipolato un po' finché non ho avuto una formula di beta quadro, che poi è stata la desi quadrata mi dà beta, quindi, io ho detto di mettere 1000 qua, 1000 al quadrato meno 1 diviso 1000 al quadrato è stata la cosa dice, vedete che è quasi 1, no? Cioè, se questo è molto grande, togliere il numero è un numero molto grande, cazzo, quindi praticamente 1 diviso 1 è qualcosa molto vicino a 1, no? Quindi vedete, se metto 10.000 quanto vicino a 1 sono? Molto vicino, ci sono quasi arrivato, ma ho una discrepanza dalla 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima cifra dopo la 0, ok? E se sono a 10.000 guardate quanto vicino sono a 1, ok? Quindi, letto così, io per arrivare a 10.000 devo essere proprio ok? Allora, qualcosa che fa parte della cultura generale, non è in programma, sappiate che i fisici delle particelle, io sono un ex fisico delle particelle, adesso faccio fisica applicata, cioè faccio lo studio, studio gli effetti delle radiazioni, per esempio gli effetti di particelle sull'elettronica, questo è uno spin off delle problematiche sperimentali di un fisico delle particelle, perché voi create particelle e volete usare l'elettronica non solo per rivelarle, ma anche per trattare le informazioni, ma se l'elettronica che vedete della sala sperimentale a furi di essere bombardata da particelle molto energetiche si rovina, l'esperimento dovrà farsi fottere in tempo rapido, va spedendo un sacco di soldi, quindi bisogna sviluppare dispositivi che siano resistenti alle radiazioni, d'accordo? Questo è quello che faccio io, cioè io sono quello che irraggio l'elettronica della gente che sta cercando di fare l'elettronica resistente alle radiazioni. La gente che è interessata in effetti di radiazioni sull'elettronica sono tanti, non solo il fisico delle alte energie del CERN, che nella sala sperimentale è elettronica costosissima e spera che resista alle radiazioni per anni, ma anche chi manda un satellite fuori dalla protezione dell'atmosfera, perché là fuori c'è un sacco di radiazioni chiamate raggi cosmici, ok? Quindi se voi prendete un'elettronica commerciale di uso quotidiano e la mandate sulle satellite deve smettere di funzionare, quindi quando la mandate su dovete mandare su elettronica che è concepita per resistere alla radiazioni. Allora, cosa stavo dicendo? I particellari amano misurare gamma per un particellare, è il rapporto tra l'energia cinetica della particella e la sua cosiddetta massa a riposo. Allora, alcuni di voi hanno sentito, l'ho anche scritto stamattina, a forma di Einstein, che l'energia è uguale a mc quadro. Allora, un corpo solo per esistere, se ha massa, il fatto semplicemente di esistere ha un certo contenuto di energia, e quale è l'energia? È la sua massa, moltiplicata per c quadro, quindi questo c quadro è una specie di fattore di conversione tra le masse e tra l'energia, è un fattore di scala. Quindi tante volte l'energia nei particellari si misura in electron volt, e vedremo durante il corso cos'è un electron volt, forse qualcuno se lo ricorda anche, perché la classificazione della misura per chi fa un po' di elettronica, o anche per chi fa un po' di chimica, l'energia per ionizzare un atomo si misura in electron volt, quindi chi fa chimica e chi fa elettronica conosce questo valore e noi lo faremo nel corso. Allora, questo si misura in electron volt, il simbolo è questo, quindi la massa, i fisici e le particelle la misurano in electron volt su c quadro, vedete? Electron volt diviso c quadro vi da la massa, quindi noi non misuriamo le masse e le particelle in chilogrammi, perché sono numeri molto piccoli, no? Cioè la massa di un elettrone misurata in chilogrammi è qualcosa come 10 alla meno 30 chilogrammi, nel senso A. Invece la massa dell'elettrone misurata in un elettron volt è un numero già molto più interessante, e questo, la massa dell'elettrone è 511.000 elettron volt diviso c quadro, quindi si fa così, Kev su c quadro. quindi noi misuriamo le masse così, la massa di un protone, la massa, un attimo perché è un momento di lapsus, voglio vedere se ci arriva da sopra, la massa di un protone, quindi devo autocorreggere, la massa di un protone è facile ricordare, dovrei sapere la massa dell'elettrone, infatti la so, se ci si vede in un momento di palla, no? Succede anche a voi, no? Allora uno cosa fa? Respiro profondo e cerca di tornare a una cosa che sa e poi ci arriva, shhh, ve lo consiglio questa tecnica? Ok, la massa del protone io la so, è abbastanza inchiodata nella mia testa, ed è circa, è 936 qualcosa, ma è circa mille, milioni di elettron volt su c quadro, questo è mille milioni, quindi questo lo scriverò con la notazione dei fisici, un Gev su c quadro, g sta per giga, tipo gigahertz, quindi è un 10 alla 9, il m sta per mega, che sta per 10 alla 6, d'accordo? Quindi la massa di un protone è 900, facciamo mille, eh? Milioni di elettron volt, quindi 10 alla 9 elettron volt, un giga elettron volt, non un gigahertz, un giga elettron volt, ok? La massa del protone è circa 1836, facciamo 2000, volte più del protone, ok? Quindi vedete che avevo ragione, ecco il K, dov'è? Ho cancellato? Si, si. Ok? Perché la massa dell'elettrone è circa 2000 volte meno, quindi se questi sono 1000 MeV, devo dividere per 2000 e ho mezzo MeV, e di nuovo, qua continuo a sbagliare, questo è 500 KV, quindi è mezzo MeV, d'accordo? Massa dell'elettrone è 2000 volte, 1836 volte più leggero del protone. Comunque, a parte l'elettrone, mi tento di averlo fatto, ho fatto una brutta figura, succede, il protone è circa un GEV, su C quadro, ALHC, questo gigantesco acceleratore dove stanno raccogliendo eventi che contengono l'X, quindi a furia di accumulare statistiche riusciranno a misurare le proprietà di questa particella. I protoni che vengono fatti collidere, sono due fasci di protoni, uno di qua e uno di qua, quindi una collisione in qualche modo frontale. Il fascio di uno dei protoni sta andando a circa 7, facciamo 10, cifra tonda, 10 TEV, quindi l'energia cinetica è di 10 TEV, un TEV è 10 alla 12, vedete mai 10.000 GEV, ok? Siccome la massa di un protone è un GEV, allora un particellare, lo stavo scrivendo poi mi sono fermato, un particellare dice che la gamma di Loretz è l'energia cinetica diviso la massa di riposo, quindi qual è la gamma dei protoni che circolano nell'acceleratore LHC? E' 10.000, più o meno perché invece di essere 10 TEV in realtà sono 7, il protone invece di essere un GEV è 0,936, d'accordo? l'approssimazione, la gamma dei protoni dell'acceleratore LHC è di circa 10.000, quindi a che velocità della luce sta andando? A che velocità sta andando? A una velocità che è molto vicina alla velocità della luce, eccola qua il numero, a me se ne ho concesso che il vostro collega abbia usato in maniera corretta la calcolatrice, d'accordo? Quindi in effetti la parola acceleratore di particelle è un po' un nome inappropriato perché alla fine voi la velocità della particella si inizia ma poi a un certo momento non cambia più, si avvicina la velocità della luce e voi continuate a pompare energia, ma dove va a finire? Non in velocità, va a finire una specie di massa, tutta quella energia sta facendo diventare il protone, sempre più ciccione, sempre più massiccio e quindi tutta quella energia quando ci sarà una collisione verrà convertita in materia esotica e tra cui ci sono anche queste fantomatiche particelle x, d'accordo? Va bene, le cose che volevo dire è una cosa carina e credo di non ve lo avrebbero detto, se l'ho detto fermatevi, perché ripeto, quel fatto che voi non fate le lezioni di fisica il mercoledì ti crea dei problemi, anzi io sono molto curioso di sapere cosa fate il mercoledì? Secondo voi c'è una spiegazione del perché non si riesce a spalmare la fisica su tre giorni invece di avere i martedì e giovedì? Perché non si riesce a incastrarlo giovedì? I docenti di questi corsi che si fanno mercoledì come sono messi i lunedì e giovedì? Avete le loro lezioni? Quindi di analisi cosa fate il martedì? Quante ore? Questo è il punto, quindi invece di avere analisi su tre giorni e fisica su tre giorni avete analisi quanti giorni? Quindi è il problema, cioè non capisco perché non si riesce a spalmare su tre giorni, evidentemente i docenti di analisi perché io faccio già su tre giorni la fisica, quindi si eviterebbe queste cinque ore, vabbè se la vi, però queste cose si possono cambiare no? Chiediamo di fare qualcosa di diverso allo scorso, però è già da tre anni che gli industriali non fanno fisica il mercoledì, quindi è un problema che si ripropone ogni anno. Allora un discorso che non credo avermi fatto, attenzione la fisica della prima parte del corso e per quello anche quando parlerò del movimento di un elettrone e un protone anche nella seconda parte del corso, vi faremo muovere la velocità a modo bassa e siamo qua giù, siamo qua giù, in regime fortemente classico, d'accordo? Tutti questi discorsi vi li ho fatti per cultura generale, però c'è un'ultima cosa che voglio fare per cultura generale, che è questo e parte da un'anticipazione che faremo già martedì, io farò fisica di Newton, eccetera, la fisica di Newton è molto radicata nella vita quotidiana, nel senso che la nostra vita quotidiana è basata sulla fisica di Newton, la sperimentiamo tutti i giorni, allora supponete che io sono su un treno che sta andando in quella direzione e all'interno del treno, silenzio per cortesia, facciamo a 100 km all'ora in quella direzione e io lancio questa lattina che ho in mano all'interno del vagone ferroviario in avanti a un paio di metri al secondo, ok? Voi attraverso i fenestrini vedete il cancellino volare con quale velocità? Con 100 km all'ora più i 2 metri al secondo, se io sto andando là e lancio il cancellino di là, voi cosa vedete? La velocità del cancellino sarà 100 km all'ora meno, cosa ho detto? 2 metri al secondo, addirittura se io avessi un fucile o un cannone e sparassi il cancellino di là dell'attrito con l'aria, esattamente a 100 km all'ora rispetto a me, voi cosa vedete? Il cancellino sarà ben fermo, non mi pare? Voi lo vedete fermo, questo è uno dei motivi per cui non si deve lanciare gli oggetti del filestino dei treni, perché se io invece di lanciare dentro il treno gli sporco del filestino e lancio in avanti al di là della questione dell'attrito con l'aria che accantoniamo, il proiettile, cioè il cancellino diventa un proiettile che ha la velocità per chi è qua sulla pensilina ha una velocità della velocità del treno più la velocità che io sul treno imprimo il proiettile, quindi la persona che lì vede arrivarsi il cancellino addosso con una velocità di 100 km all'ora più quello che io ho dato misurato rispetto al treno, quindi diventa letale, una lattina di coca cola vuota lanciata all'interno del treno così a un amico, un metro al secondo, se fate così fuori dal finestrino diventa un'arma letale, quindi non bisogna gettare gli oggetti dal finestrino non solo perché sporcati ma perché diventano oggetti pericolosi quindi la velocità che voi imprimete viene aumentata dalla velocità del treno e c'è una parola in inglese molto carina che non credo userò mai ma è venuta in mente di dirlo adesso che si chiama boost, qualcuno sa cosa vuol dire boost ha mai scritto la parola boost? vuol dire un ulteriore, qual è la parola? si spinta o un aggiunta, voi state aggiungendo in maniera importante quindi alla velocità alla velocità del proiettile si aggiunge la velocità del treno, la velocità del proiettile viene boosted, d'accordo? è una parola commentata, il concetto avete capito? la formula di Newton che recaveremo martedì è molto semplice, silenzio, quindi se questo è il treno che sta viaggiando a velocità v, se questo è il treno che sta viaggiando a velocità v e a rispetto al treno c'è qualcosa, facciamo un moto rettilineo eh? c'è qualcosa che si muove rispetto al treno alla velocità che facciamo v' qual è la velocità vista dalla lavagna? cioè il treno si muove rispetto alla lavagna qual è la velocità di questo visto dal marciapiede della stazione? la formula degli Newton è molto semplice abbiamo appena detto che la velocità vista dal laboratorio, dalla stazione è uguale alla velocità rispetto al treno più la velocità del treno e queste sono somme algebriche perché questi, benché non abbia messo le frecce sopra, sono in realtà dei vettori perché v va di là e questo in questo momento va di là, se lo alciassi di là avrei avuto la sottrazione quindi sono vettori questi, hanno versi un valore positivo e un valore negativo se io lancio di là, quello ha una velocità che è questo meno quello, d'accordo che siamo molto chiari a questo? Einstein non è d'accordo, la formula relativistica, questa è la formula di Newton, ve l'ho fatto questo? no, la formula di Einstein è questa, la velocità vista da chi è solidale con la lavagna è la velocità vista dal treno più la velocità del treno diviso uno più v primo v diviso c quadro, questa è la formula di Einstein, voglio che la guardiate un attimo perché guardate come questo signore qui è un prodotto di velocità, questo è un prodotto di velocità e il rapporto di prodotti di velocità quindi è un numero adimensionale, il numeratore è identico a quello di Newton, la novità è il denominatore che è adimensionale, guardatela, silenzio, guardiamo una cosa questo è interessante perché sta dicendo, guardate cosa direbbe Newton se io sul treno avessi una torcia elettrica, Newton direbbe io sto viaggiando a 100 km all'ora, accendo una torcia vedo rispetto a me velocità c, voi secondo Newton dovreste vedere c più v, invece Einstein dice no no, dovete vedere c, dovete vedere c, non dovete vedere, cioè per usare la parola boost, la luce non viene boostato, non viene aumentata la velocità della luce per il contributo della velocità del treno, perché è quello che la formula di Newton direbbe, la formula di Newton dice che la c del laboratorio dovrebbe essere la c del treno più la velocità del treno, ma Einstein dice no no no, e vediamo se questa formula almeno è d'accordo con quello che dice Einstein, e questo è il giochetto che voglio farvi, dov'è il cancellino, finito per te? Quindi supponiamo che invece di lanciare un oggetto il cancellino, io lancio un lampo di luce, quindi qua io metto c, quindi qua metto c, e mi chiedo cosa viene fuori? Allora guardate qua, questo c va via con uno di questi, quindi ho c più v, questa è una v, diviso 1 più la velocità del treno diviso c, questo 1, silenzio, se sto cioccolare, in dialetto venere sto a parlare, si sente sulla telecamera, si sente, è proprio fastidioso, uno sta cercando di seguire il professore, c'è una gna gna gna, fa fastidio, si sente la mia voce, non è che io sono coperto dal rumore, ma fa fastidio, se non vi va di seguire questa lezione in silenzio, allora non so cosa dire, andate altrove, questo 1 qua lo faccio diventare un c più c, siete d'accordo? Quindi questo c che è nel denominatore in età me lo mette in evidenza, lasciando c più o, quindi questo va via con questo, questo è un 1 diviso 1 diviso, quindi questo è c, vedete come la formula ti fa venire fuori c, io sul treno lancio della luce, per me stai facendo velocità c, anche per voi, la formula di Newton non funziona, addirittura per divertimento, supponete che il treno vada alla velocità, attenzione che questa formula ha la pretesa di funzionare a qualsiasi velocità, quindi se la velocità del treno è c, cosa direbbe la formula? Se la velocità del treno è c, questo sarebbe c, avrei 1 più c per c diviso c quadro, quindi questo qui ovviamente diventa 1 e avrei 2c diviso 2 uguale c, vedete? Anche se io viaggiasse la velocità della luce e mandassi, ovviamente la velocità della luce può andare solo la luce, neanche un protone può andare la velocità della luce, ma io se sono seduto su uno dei protoni dell'Hc ed emetto un lampo di luce in avanti, chi è nel laboratorio vede questo lampo di luce con la stessa velocità c, ok? Ok, mi accorgo di non aver commentato questa formula perché abbiamo fatto il gamma ma non ho commentato la formula ed è questo che è, quindi questo sono contento che l'ho fatto ma devo farlo dopo aver fatto il commento. Per fortuna perché sennò si perde il succo della formula, eh? Voglio che la guardiate un attimo, guardatela così. Cosa mi sta dicendo? Qual era l'esercizio? L'esercizio era che qua avevate gli orologi, vi ricordate? Tanti orologi sincronizzati, e quando questi segnavano un mezzogiorno e il treno era qua, l'orologio della luce, vi chiedevo cosa segnava. Allora quello mi sta dicendo una cosa interessante, mi dice che se il laboratorio, scusatemi, se l'orologio proprio, il mio orologio, io vedo che mi è passato un secondo, voi direte che il tempo che è passato è più grande. Silenzio! Se io sto muovendomi a, che so, a 99% della velocità della luce, per me è passato un secondo, voi cosa dite che è passato? Guardate la tabella. 7 secondi. Cioè quello che per me è un secondo, per voi è 7 secondi. Se io sto andando a 0,999, quello che per me è un secondo, per voi cos'è? 22 secondi. Cosa vuol dire? Che più veloce vado, più quello che per me è un secondo, per voi diventa un tempo sempre più lungo. Quindi quando era scattato a mezzogiorno, era qua giù, quando è arrivato qui, se vado molto lentamente, con un gamma quasi 1, l'orologio del treno segnerà, entro la precisione, lo stesso segno, lo stesso tempo. Ma se l'orologio sta andando a velocità sempre maggiori, questo sarà in ritardo. Se va a velocità maggiore, questo sarà in ritardo. Se va a velocità maggiore, questo sarà cambiato di poco. Cioè, io vedo, sul mio orologio è passato un secondo, una lancetta, ma per voi è passato molto più tempo. E se vado a velocità della luce, praticamente, questo orologio sembra neanche muoversi. Infatti, se andasse a velocità della luce, questo orologio non si schioda. Infatti, si dice tra i particellari che i fotoni non invecchiano. La cosa importante del disegno, tutto qua, tutto questo discorso, si poggia sul disegno. E quindi, mi raccomando, se l'orologio inizialmente è qui, e lui si sposta a una bassa velocità, si è spostato che so qui, che percorso fa la luce secondo voi? Va così e torna giù. che è molto vicino al percorso che fa la luce secondo me, che si rimette da su e giù. Se invece l'orologio si muove un po' più velocemente, allora la luce fa un percorso più lungo. Se l'orologio si muove molto più velocemente, e se si muove ancora più velocemente, se questo andasse così velocemente da quasi essa velocità della luce, la luce che da qua sta espandendo, sta in un certo senso facendo fatica a guardare questo specchio. Impiega molto tempo per arrivarci e quindi riflettere. E se questo oggetto si spostasse a una velocità della luce, questa luce non gli arriverebbe mai. E' bloccato. Ok, questo è il paradosso dei gemelli, no? Qualcuno la si deve menzionare. E non voglio fare nessun commento particolare, tranne questo. Che quando questo è fatto scattare al mezzogiorno, questo è il gemello che passa con velocità V per il suo, immaginate che in quell'istante hanno la stessa età, tutte e due le rose al mezzogiorno. poi questo orologio mobile prima o poi arriva qua giù, quando questo orologio è arrivato alla mezza, come questa, come questo, come quello del gemello rimasto fermo. Ma questo orologio qua, se è molto veloce, è invecchiato poco. Ok? D'accordo? Quindi lo scopo di queste ore che ho un po' perso, tra virgolette, è di darvi un po' di cultura generale. Non è, ripeto, l'argomento del corso. Il messaggio fondamentale è che cos'è un sistema di riferimento? Avete sì coordinate spaziali, ma avete anche delle coordinate temporali. E la coordinata temporale non la ricavate guardando con i vostri occhi, ma andando a leggere gli orologi che sono stati, almeno in via di principio, fermati, man mano la partizia passava per dei punti. Ma l'informazione che raccogliete ha senso se gli orologi sono stati sincronizzati. Il problema della sincronia non c'è in Newton, perché la luce viaggia all'infinito, a velocità infinita, e quindi gli orologi sono sincronizzati subito e tutte queste pippe sulla mancanza di sincronia non c'è. C'è invece nella relatività di Einstein, perché la velocità della luce non è infinitamente grande e non solo, la velocità della luce è uguale per tutti gli osservatori ed è proprio questo fatto qua che è uguale per tutti gli osservatori che fa sì che il mio sistema di riferimento all'interno del mio vagone, con i miei orologi sincroni, per voi non sarà un buon sistema di riferimento perché voi vedete i miei orologi non sincronizzati. Cosa vuol dire sincronizzati? Se per me io facevo sincronizzare questi due orologi con un'onda che partiva e arrivava simultaneamente, voi direte no, se stai andando di là colpisce qua prima, quindi non è un arrivo simultaneo, hai fatto male a far partire gli orologi uguali, hai fatto partire questo prima, quindi gli orologi non sono sincroni. Tutto questo discorso che io trovo molto bello da fisico, alcuni di voi vabbè siete elettrici, anzi vi dico perché Einstein ha pensato a questo problema degli orologi e della sincronia? Non perché era un teorico seduto sul suo culo a pensare a cose strane, eh? lui era un uomo profondamente pratico ha lavorato per anni in un ufficio brevetti, lui ha dei brevetti a suo nome, ha brevetato addirittura un frigorifero, eh? Lui era un uomo pratico e negli anni della sua generazione quando lui era giovane, prima che lui nascesse stava accadendo una cosa molto interessante, la ferrovia stava diventando il mezzo di trasporto che ogni paese voleva avere, e quindi quando Einstein era giovane le ferrovie erano in piena espansione, c'erano varie compagnie ferroviarie, si mettevano d'accordo per costruire una rete ferroviaria, poi le varie compagnie ferroviarie gestivano quella rete ferroviaria, e qual è il problema? Di far circolare i trepi senza che si scontrassero, quindi c'è il problema di coordinare le partenze dei treni in diversi posti per un paese, c'è il problema di sincronizzare gli orologi, il treno che partiva da una città a mezzogiorno doveva partire allo stesso mezzogiorno di un altro, perché se c'era un disaccordo dei tempi di partenza magari erano sullo stesso tratto ferroviario, dello stesso istante, e avevate morti, uccisioni, quindi il problema di sincronizzare gli orologi era reale, come facevano? Sono stati elettrotecnici a farlo, perché la sincronizzazione degli orologi si fa con segnali elettrici, mandati via cavi, non via etere, non via onde elettromagnetiche. Quindi la prossima volta che andate in stazione principale, tipo una stazione Termini, e fate in silenzio per cortesia perché sto parlando, la prossima volta che andate in una grande stazione o anche in un aeroporto e vedete tutti gli orologi siano alla stessa ora, è perché sono sincronizzati a segnali elettrici. Il vostro computer, che hanno varie parti che sono sincronizzati assieme, è perché c'è un segnale elettrico che sta viaggiando e facendo da metronomo. Quindi queste sono problematiche profondamente radicate nella tecnologia dell'epoca di Einstein, non sono fantasie di un teorico pazzo. Ok? E c'è un libro sul sito, c'è un elenco, c'è un file che si chiama una piccola grande biblioteca, una lista di libri per una piccola grande biblioteca, piccola perché sono alcuni libri, grande perché sono libri interessanti e uno dei libri è proprio di una casa editrice italiana di uno storico della scienza americana che si chiama Galison, è un fisico che poi si è dedicato alla storia della fisica, che racconta tutta questa problematica, il libro si chiama gli orologi di Einstein e Poincaré, ok? Perché Poincaré è un altro che era un ingegnere matematico, fisico, era un uomo universale, essenzialmente un ingegnere di professione, per lui lui si dilettava in fisica, per i fisici è un grande eroe, però lui essendo un uomo di formazione ingegneristica, stava affrontando assieme ad Einstein, non si conoscevano le stesse problematiche concettuali che era quello dietro quello che la generazione prima fecero, non so se l'italiano è corretto, di sincronizzare gli orologi dei treni, cioè questo problema di definire il tempo per persone sparpagliate nello spazio, qua e qua esseri sicuri si sono sincronizzati, era un problema che era stato affrontato dagli ingegneri elettrotecnici della generazione prima di Einstein e Poincaré, e tutti e due a valle di questa problematica, che era proprio, facevano convegni, pubblicavano articoli, facevano brevetti, è emersa questa sensibilità a cos'è il tempo e cosa si misura e da lì è nata la fisica moderna, ok? Non è la prima volta che la fisica è nata da problematiche ingegneristiche, molte volte succede il contrario, problematiche ingegneristiche possono nascere su una scoperta fisica, uno scopre un fenomeno poi gli ingegneri si mettono a ingegnerizzare e a brevettare e a commercializzare un fenomeno. Questo è uno dei begli esempi in cui dei concetti fisici teorici fortemente astratti in realtà nascono da una problematica molto 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 concreta, d'accordo?